Arrivano i primi indagati per il crollo del ponteggio a Piedimonte Matese in provincia di Caserta davanti alla basilica dedicata a San Marcellino che è costato la vita il 31 ottobre scorso a due operai ed ha provocato il ferimento di un terzo uomo. Si tratterebbe di due addetti alla personale delle imprese che stavano effettuando i lavori e di alcuni responsabili del cantiere. L'accusa formulata dal PM di Santa Maria Capoavetere Carlo Fucci è di omicidio colposo plurimo. Intanto dalle indagini effettuate dai carabinieri della compagnia di Piedimonte e da quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta stanno emergendo ripetute violazioni nell'esecuzione delle opere. Subito dopo la tragedia fu accertato che nessuno dei due operai morti indossava caschi ed altri strumenti di protezione. Gli operai sono caduti da un'altezza di 15 metri. Gli investigatori hanno anche accertato che due dipendenti su quattro presenti sul posto di lavoro erano in nero. Uno dei due operai morti, Antonio Azzeri, 56 anni di Casoria, non aveva alcun contratto di lavoro. Stessa situazione per il nipote presente sul posto che è rimasto lievemente ferito. L'Alma Service di San Potito Sannitico, l'impresa che si è giudicata all'appalto della diocesi di Alife Cagliazzo per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della chiesa danneggiata dal sisma del dicembre 2013, aveva invece regolarmente assunto l'altro operaio deceduto, Tammaro Albino, 48enne di Gioia Sannitica, ed un quarto lavoratore. Dalle indagini è emerso inoltre che quel cantiere non doveva essere nemmeno aperto perché il Comune aveva sospeso i lavori lo scorso 27 ottobre con una comunicazione inviata dal sindaco Vincenzo Cappello alla Curia per mancanza di specifiche attestazioni richieste dalla sovrintendenza dei beni culturali. Dopo l'esame esterno le salme dei due operai sono state consegnate ai familiari per il funerale.